ciao ragazzi e benvenuti dal consigliato da carfissi online e io sono nicola di carfissi online e prima scusate mi stavo rinfrescando perché l'estate ormai è alle porte il caldo si fa sentire notevolmente e a questo punto perché non consigliarvi il bv fan di tracker che cos'è bv fan un prodotto semplicissimo pure economico perché costa 20 euro ma secondo me utile da portare nelle vostre sessioni di pesca calde sessioni di pesca guardate qua è facilissimo io lo sto facendo funzionare basta soltanto prendere il cavo usb e collegarlo a uno dei power bank che voi avete sicuramente nella vostra borsa e azionare quel pulsante che si trova sul retro le ventole adesso io vi faccio vedere che le ventole sono modulabili su tre velocità diverse in questo caso sto utilizzando quella più veloce la massima ma se avete bisogno di ridurre la portata d'aria basta soltanto diminuire la velocità delle ventole questa è la minima l'intermedia e poi come stavo utilizzando io prima che c'è caldo la massima ora lo spengo perché vi voglio far vedere il retro intanto è fornito con questo sistema che vi consente anche di trovare delle angolazioni diverse fino a poterlo mettere completamente dritto e la cosa anche interessante visto che notoriamente quando arriva il caldo e siamo su delle sponde dove c'è acqua le zanzare sono parte purtroppo integrante della nostra pesca e comunque sono fastidiose ecco che con il bv fan oltre che avere delle ventole che ci rinfrescano abbiamo la possibilità anche andando a svitare questo di bagnare questo dischetto con un liquido repellente riporlo nella sua sede riavitare il tutto e andando ad azionare le ventole la ventola non farà altro che spingere il liquido repellente all'interno di questo dischetto ed espanderlo nell'ambiente allontanando le nostre fastidiose zanzare quindi io questo prodotto qua ve lo consiglio sia per rinfrescarvi che anche per farvi da repellente per gli insetti per le zanzare in particolare e lo trovate sul mio store a marchio tracker pertanto con questo prodottino di tracker con bv fan io vi saluto vi mando all'appuntamento con il prossimo consigliato da carfissi online mi raccomando se avete domande da fare le potete fare o commentando il video che comparirà su youtube oppure su il video che verrà condiviso sulle pagine social instagram e facebook appena posso io avrò piacere di rispondervi e con questo un abbraccio e ciao a tutti da nicola di carfissi online ciao ragazzi ciao